Siamo con il neo sindaco di Castellalto Aniceto Rocci, la vedo stanca perché insomma le prime schede come tutti ovviamente mettono ansia, poi però è arrivato questo bel risultato. E' stata una competizione sofferta fino all'ultimo voto, un grande avversario e quindi sono contento per il risultato. Queste cose sono le cose più belle, quelle sofferte sono le più belle. E' come un po' vincere i calci di rigori. Il primo lavoro da fare per Castellalto e non solo. Per Castellalto abbiamo tante cose in cantiere ma la cosa più importante che ci tengo è a ultimare ciò che abbiamo iniziato, quindi continuare il nostro percorso e quindi tagliare qualche nastro di qualche opera che sta quasi per essere ultimata. Quindi questo voglio fare, dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi e soprattutto cominciare subito, già da domani mettersi in moto. Non so neanche il risultato, la mia squadra non so neanche questo. I numeri fanno la differenza, le faccio forse la domanda più difficile. Ci potrà essere, perché prima ha detto un grande avversario, anche una mano tesa per cercare di portare avanti alcuni progetti. Sì, sì, questo sicuramente è una persona intelligente, brava e quindi sono sicuro che lavorerà per la nostra comunità, per il nostro territorio. Questo sono sicuro, anche la minoranza sarà collaborativa con noi, sicuro.